Salve amici del Centrometeo Italiano. La stagione primaverile sta per essere interessata da un periodo più perturbato. Si fa strada anche l'ipotesi di un colpo di coda invernale verso l'avvio di aprile. L'imminente weekend sarà interessato da un blando peggioramento causato da un'area depressionaria nordafricana in spostamento verso l'Italia. La giornata di sarà piuttosto uggiosa, con molte nubi al centro-sud e precipitazioni sparse, generalmente di debole intensità. Da non escludere qualche spolverata in alta montagna sull'Appennino. Sempre più conferme a seguire per il transito di un prefrontale, ovvero un'onda mobile di alta pressione che anticiperà il peggioramento meteo di fine marzo. Su quest'ultimo i modelli matematici sono ancora divergenti nelle ipotesi. L'americano GFS propone un rapido passaggio di una saccatura atlantica seguita da una possente rimonta anticiclonica. D'altro canto il modello europeo è di vedute più estreme, con l'innalzamento di un promontorio d'alta pressione fin verso l'Agroenlandia che favorirebbe la discesa di aria artico-marittima fin verso l'Italia. In questo caso il nostro territorio piomberebbe nuovamente in inverno, con temperature indeciso calo ed un annesso ritorno della neve anche a quote relativamente basse per il periodo. Per scendere ulteriormente nel dettaglio vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti sia sul nostro sito che sul nostro canale YouTube. Un saluto da parte del Centro Meteo Italiano.